Le molteplici forme di ingiustizia e di violenza che feriscono quotidianamente l'umanità rappresentano un fiume in piena che tuttavia non può nulla contro l'oceano di misericordia che inunda il nostro mondo. Nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, 49esima giornata mondiale della pace, Papa Francesco ha preseduto la messa nella Basilica Vaticana e ha chiesto a tutti di credere nella pienezza del tempo, che è la presenza di Dio nella storia. Il suo amore infatti ci accompagna anche quando sembra che perduri la sopraffazione dell'uomo sull'uomo, anche dinanzi alla moltitudine di uomini, donne e bambini che sfuggono dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione, disposti a rischiare la vita pur di vedere rispettati i loro diritti fondamentali. Questo fiume di miseria, alimentato dal peccato, ha rimarcato il pontefice e annullato dall'oceano di misericordia di Dio. Dove non può arrivare la ragione dei filosofi nella trattativa della politica, aggiunto, là può giungere la forza della fede che porta la grazia del Vangelo di Cristo e che può aprire sempre nuove vie alla ragione e alle trattative. Siamo chiamati tutti ad immergerci in questo oceano, a lasciarci rigenerare per vincere l'indifferenza che impedisce la solidarietà e uscire dalla falsa neutralità che ostacola la condivisione. La grazia di Cristo che porta a compimento la testa di salvezza ci spinge a diventare suoi cooperatori nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno, dove ogni persona e ogni creatura possa vivere in pace, nell'armonia della creazione originaria di Dio. Il tema della pace è tornato anche prima della recita dell'Angelus. A tutti il pontefice ha ricordato che il Signore è un padre innamorato dell'uomo che tuttavia non usa la bacchetta magica ma ama cambiare la realtà dal di dentro, con pazienza e amore. La pace che Dio Padre desidera seminare nel mondo deve essere coltivata da noi. Non solo, deve essere anche conquistata. Ciò comporta una vera e propria lotta, un combattimento spirituale che ha luogo nel nostro cuore. Perché nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l'indifferenza che fa pensare solo a se stessi e crea barrieri, sospetti, paure e chiusure.